che vuol dire essere umani che vuol dire soffrire che vuol dire sentirsi vivi per ogni persona a cui parlate è un giorno diverso per alcuni quello è un buongiorno per altri no ogni persona a cui parlate ha avuto un'infanzia tutti hanno un corpo e ogni corpo ha sofferto cercate in ogni persona un particolare che la renda unica e concentratevi su quello ricordate che per ogni persona esiste un'anima gemella tu sei straordinaria perché ancora non lo so ma sono sicurissimo che sia così il nostro tempo è limitato non dimenticatelo